Grande successo per la terza edizione di Trigra, la rievocazione storica sulle tre figure femminili, icone della cultura arbrescia a firmo nel Cosentino, Erina Castriota, principessa di Bisignano, Covella Ruffo, nobile donna dal carattere decisivo e infine Chiara Comite, le cui nozze con Giulio Daci Lento nel 1508 sono l'oggetto della rievocazione storica. Ringhi Pescia, Chiara Comite, si cerca sempre ogni anno di coinvolgere la maggior parte del paese perché è un momento di riflessione, di pensamento sulla storia e sull'appartenenza. L'idea originale è venuta con la presenza di queste tre donne nella storia del paese. Ora notoriamente le donne sono assenti del tutto in letteratura e anche nella storia, però ammiriamo le varie duchesse, principesse, Caterina dei Medici, Matilde, tante figure femminili. Ora stranamente un paese piccolo come il nostro ha al suo nascere queste tre figure. Quindi stiamo cercando sempre di essere molto fedeli, però badando che l'importante è che rifar pensare, cioè far ripensare alle persone questo momento. La manifestazione è stata organizzata dall'amministrazione comunale a diverse associazioni con la direzione artistica di Domenica Martino e sostenuta dal Ministero della Cultura. Per noi è molto importante perché abbiamo appunto queste occasioni per poter rimarcare la nostra identità e la nostra arbrecità in tutta Italia, diciamo. Il corteo storico composto da dame e cavalieri in abiti cinquecenteschi accompagnati dai musici Arma Murani hanno dato alla cerimonia la giusta solennità, riproponendo proprio il matrimonio attraverso una vera e propria festa che ha coinvolto tutta la cittadina. Grazie.